Fernando Crudele è il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Isernia. È stato eletto all'unanimità durante la prima riunione del nuovo consiglio direttivo. Così come il neopresidente, anche gli altri esponenti del recentemente costituito consiglio promanano dalla lista In Ordine Insieme, che ha ottenuto il massimo risultato possibile con l'elezione di tutti i suoi candidati. Chiederemo una presenza realmente incisiva della medicina sul territorio e il ripristino dei servizi essenziali nei presidi ospedalieri. È questa, ha affermato Crudele, la strada maestra per garantire il diritto alla salute ai cittadini. Con la mia squadra neoeletta, composta soprattutto da giovani molto motivati, cercheremo di riportare il medico al centro del mondo sanitario. Dovremmo diventare degli interlocutori privilegiati dell'ASREM, della regione e degli altri enti per comprendere come deve essere migliorata e diventare più efficiente la sanità molisana. Per esempio, dobbiamo ridare assolutamente la dignità al Veneziale di Isernia come ospedale capoluogo di provincia. Dovremmo rivedere la posizione su Agnone, che è una zona altamente disagiata e soprattutto d'inverno crea grossi problemi di tutela sanitaria, proprio di livelli essenziali. E rivedere anche la posizione del Santissimo Rosario, che è stato praticamente chiuso. Non ci sono più professionalità, invece è un punto nevralgico nella rete stradale per quanto riguarda la Campania, il Molise e il Lazio. Certamente, noi siamo un ordine dei medici, non ci accavalliamo con l'attività sindacale e soprattutto con l'attività politica. Noi non vorremmo assolutamente fare degli slogan, ma sicuramente rilanciare il territorio per dare delle risposte alla nostra popolazione, ai nostri pazienti, anziani, è essenziale. Non possiamo chiudere l'ospedale e non dare un rilancio territoriale. E poi noi, fino a prova contraria, siamo gli attori della sanità, quindi tutti in ospedale e compagnia bella siamo noi che siamo il centro del mondo sanitario. Noi conosciamo i veri problemi perché noi ci lavoriamo tutti i giorni. Dunque, obiettivi di buon senso, ma che al contempo diventano ambiziosi, stante la necessità di far fronte alla esigenza di contenimento della spesa sanitaria regionale. Una riorganizzazione è necessaria. Rivedere tutti i vari reparti, le varie zone d'ombra e soprattutto i punti di spesa è essenziale. Ma riorganizzare non significa ridurre, significa ripristinare al meglio, significa rilanciare. Non dobbiamo vedere la sanità come solo un centro di spesa. La sanità è la tutela della salute della popolazione.